Con noi Michele Ferraro, addetto stampa di Arpa Sicilia. Ecco Michele, a San Vito Lo Capo, questo oggi c'è la firma di un importante documento, la carta di San Vito insieme a questo Sicilia Ambiente Film Festival. Sì, diciamo che arrivati all'ottava edizione di questo film festival, che negli ultimi anni si è avvalso dalla collaborazione di Arpa, si arriva a un punto di particolare importanza che guarda al futuro, attraverso la sottoscrizione di un documento propedeutico alla carta di San Vito. Cos'è la carta di San Vito? È una linea di intenti che l'Arpa Sicilia con l'Arpa Friuli Venezia Giulia sta portando avanti per rendere il documentario, quindi la fruizione audiovisiva, uno degli elementi cardine per fare sostenibilità ambientale, per fare educazione ambientale. Sì, nelle scuole, anche attraverso una collaborazione integrata dei provveditori degli studi e degli uffici scolastici provinciali e regionali, ma anche attraverso una condivisione da parte del Ministero, che vede di buon occhio questa iniziativa, tanto da volerla assumere come buona pratica da estendere anche a livello nazionale. Quindi oggi si gettono le basi per quello che può essere un tassello in più per fare educazione ambientale e orientare le nuove generazioni attraverso i meccanismi dell'audiovisivo e quindi attraverso l'empatia che questi elementi consentono, far crescere questa cultura dell'ambiente che oggi è fondamentale per la protezione di ciò che di più prezioso abbiamo, cioè il nostro pianeta. Ecco a San Vito da giorno 19, domani l'ultima giornata, e poi cara il separio su questa ottava edizione, targata 2016. Arpa Sicilia è un modo diverso, un modo nuovo, da un po' di tempo esce fuori dai propri uffici, dai propri cardini classici e va verso l'ambiente, non perché non lo ha fatto prima, ma vi è più una consapevolezza adesso di uscire fuori, Michele? Sì, certo, Arpa Sicilia, grazie al laboratorio Infea, di cui il referente è l'ingegnere Calogero Di Chiara, ha ormai come abitudine quella dell'incontro con il territorio, e con le scuole, e con tutti quei centri di promozione culturale che sposano quelle che sono la missione di Infea, quindi l'educazione ambientale, l'informazione, e anche una cultura orientata alla sostenibilità. Grazie a tutti!